Forse è per questo che mio padre mi diceva di stare lontano da internet. Ma come hai visto così tante femmine tutte insieme? Una volta duplicata la cassetta ci bastano nel giallo solo 11 volte. Potremmo farti un sacco di soldi. Se ho capito bene è un'app per non scopare. Sì, sì, sì. Ci piace. Ci piace. Allora come funziona? E niente va, ti piace una gli metti un lec. Cioè basta un cuoricino e li mettete insieme. Stasera esco qui. Ah sì, e com'è? Com'è? In che senso? Il senso? C'è un po' di spalle. Cioè mi sai, ma anche com'è fatta? Non è facile essere uomini oggi. C'ho un po' la sensazione. Come se ti conoscessi già. Sono uscito con una persona, ma quella persona non era quella persona, era un'altra persona. Hai mangiato? Stai baciando un'altra volta lo specchio. Lo dico a mamma. L'importante è che sei felice. Sono felice. Il matrimonio è una cosa per cui essere felice. Sono felice. A posto. Ma tieni internet. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Il mio dio è questo. Come mai, ma chi sarai per farmi stare qui? Qui sei voluto in una stanza. Avevo 12 anni, ero piccola e stupida. Noi siamo sempre andati fuori tempo, ma ti... Daniel. Ma veramente vuoi far passare altri vent'anni? Ma che pensi che è un film? Aiuto, aiuto. Sandro sta morendo. Ma perché ha già mori se in vita? Ma ma perché ha già mori se in vita? Ma fai da turno. Fai film a turno. Grazie a tutti.